Ci troviamo nel comune di Certado alla 26esima edizione di Mercanzia, un evento dove c'è musica e vari spettacoli. Siamo insieme al direttore artistico Alessandro Gigli. Qual è la novità? La novità è che insieme alla musica c'è anche il teatro, c'è l'arte, ci sono il teatro di ricerca, ci sono le installazioni, c'è tante lavorazioni artigianali dal vivo. La più grande novità è che anche in questo anno riusciamo a offrire al pubblico un grande festival internazionale, non abbiamo fatto nessun taglio, con la stessa potenza, con la stessa intensità, con le stesse emozioni, con lo stesso coinvolgimento di sempre. Ci sono un centinaio di spettacoli, di repriche per sera, tantissime street band per portare gioia nel cuore, ma il discorso si farebbe lungo e molto più semplice guardare sul nostro sito per vedere il programma www.mercantiacertaldo.it Ecco, ricordiamo che l'evento durerà fino al 21 di luglio. Qui nelle strade di Certaldo Alto per i 700 anni della nascita di Giovanni Boccaccio c'è ancora gioia, speranza, voglia di divertirsi, voglia di lavorare gli artigiani, voglia di fare cultura, arte, c'è quello che avete sempre desiderato e che qui lo potete trovare. Mercanzia è ancora un sogno dopo 26 anni.